Ma sul caso Mogherini bisogna fare chiarezza, la devono fare coloro i quali in questi mesi e in queste settimane hanno strumentalmente opposto delle riserve invondate, legate alla presunta incompetenza e inesperienza della Mogherini. Mogherini è ministro degli esteri della Repubblica Italiana, che non è la Repubblica delle Banane. È stata responsabile esteri lungamente del Partito Democratico, che è stato uno dei principali partiti d'Italia, del Partito Democratico Sinistro, che è stato uno dei principali partiti d'Italia ed Europa. Ha intessuto relazioni internazionali a 360 gradi, a cominciare con la Casa Bianca e con l'amministrazione americana, che sia poi definita filo Putin. La Mogherini è un'invenzione di sana pianta, se c'è qualche filo Putin certamente non è rintracciabile nelle nostre fila. L'Italia e la Mogherini hanno tenuto in questi anni una posizione di grande equilibrio di politica internazionale, di forte e stretta alleanza transatlantica e anche di cordiale colloquio, ma severo, con la Russia.